La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha assolto Andrea Sottira per l'omicidio di Cosimo Ierinò, avvenuto a Badolato nel 2008 e per questo condannato in primo grado all'ergastolo. Il collegio giudicante, presieduto da Gabriella Reillo, ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato, difetto dagli avvocati Salvatore Stajano e Alfredo Arcorace, per non aver commesso il fatto. Secondo la tesi della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Ierinò sarebbe stato ucciso per la sua scelta di allontanarsi dal clan di appartenenza, prima trasferendosi a Milano e poi rientrato in Calabria, avviando un'attività improprio. Per i giudici che hanno emesso la sentenza ieri in secondo grado, sarebbe emersa una mancanza di prova di responsabilità in relazione alle fattispecie contestate. Non solo, sarebbe emersa anche un'omissione di esame di prove oggettive, fatti questi che hanno portato alla riforma dell'impugnata decisione con l'assoluzione dell'imputato. In fase difensiva è stato inoltre rilevato come, su tirandrea, abbia dimostrato interesse al processo e abbia partecipato ad ogni udienza, non opponendosi a nessuna delle produzioni documentali della procura distrettuale. La Corte d'Assise di Catanzaro, appellata, ha pertanto assolto l'imputato dai reati ascritti per non aver commesso i fatti e ha ordinato l'immediata liberazione di suo tira.